ciao ragazzi io sono riccardo bentornati nel mio canale youtube oggi guarderemo di nuovo il volantino della lidl con l'uscita comprese fra il 21 e 27 novembre 2022 vedremo i prodotti che ci propongono li commenteremo assieme e di quelli che già possiedo praticamente tutti vi darò le mie opinioni quindi mettiamo il volantino sul bancone e leggiamolo assieme iniziamo eccoci quindi a pagina 32 del volantino e giovedì 24 novembre 2022 troveremo come primo articolo illustrato in questo volantino l'avvitatore a percussione ricaricabile a costo di 79 euro questo articolo uscito per la prima volta a fine marzo del 2018 costava 59 euro adesso aumentato di 20 euro un po per volta negli anni fino a raggiungere questa cifra ma avrà venduto comunque completo di batteria caricabatterie e quattro bussole ovviamente il tutto contenuto all'interno di una valigetta semi rigida allora questo avvitatore lo conosciamo in tantissimi no un accenno veloce per chi non lo conoscesse serve a svitare le ruote dell'automobile e non solo tutti quei dati quelle viti che siano molto strette che sono ossidati per via del tempo eccetera le ruote dell'automobile si stringono solitamente o col gommista che esagera un pochettino quindi imprimendo un po troppa forza oppure saltando sopra la chiave in modo da essere più sicuri bene dopo un po di tempo quei dati diventano praticamente impossibili da svitare anche per un avvitatore di questo tipo per poterci riuscire è necessario insistere per alcuni secondi diversi secondi a volte anche un minuto altrimenti se i dadi le viti sono strette nel modo corretto secondo la tabella che riporta la vostra automobile allora state tranquilli che riuscirà a funzionare benissimo quindi se lo comprate fate la prova assicuratevi che non abbiate superato il 110 120 in ultrometro come coppia di serraggio comunque è regolabile su diversi livelli di coppia 100 150 200 300 e 400 newton metro l'attacco ovviamente non è con mandrino regolabile ma semplicemente un innesto quadro da mezzo pollice e si utilizza appunto con le bussole ma esistono anche degli adattatori ve ne ho fatti vedere diversi tipi e vi lascerò alcuni link per poterlo utilizzare anche per svitare delle viti poi passiamo all'articolo successivo il mini compressore anche questo mi pare costasse 14 euro e 99 e ora costa 19 euro e 99 è un piccolo compressore che serve per gonfiare le ruote dell'automobile volendo anche da zero ma solitamente si utilizza per regolare la pressione nel caso in cui le gomme siano un po sgonfie e si utilizza tramite la presa accendisicari quindi funziona 12 volte si consiglia di utilizzare questo tipo di compressori sempre con il motore acceso per evitare di scaricare la batteria della macchina altrimenti avremo le ruote gonfie della batteria scarica quindi rimarremo comunque a piedi si può utilizzare sia per gonfiare le gomme dell'automobile della moto della bici ma anche per gonfiare canotti insomma tutti i gonfiabili anche palloni eccetera verranno date dotazione anche gli adattatori per poterlo sfruttare in queste situazioni poi troviamo anche il piccolo avvitatore ricaricabile anche questo mi pare costasse 9 euro e 99 ora costa 12 euro e 99 dovrebbe essere la nuova versione con 10 newton metro di coppia in questo caso hanno fatto una descrizione davvero minima solitamente vengono riportati newton metro viene riportato oppure se il prodotto viene venduto all'interno di una valigetta in plastica o meno insomma in questo caso troviamo solamente la fotografia dell'avvitatore con il prezzo ma gli ultimi sono stati venduti tutti con una potenza di 10 newton metro che vi ricordo che più che sufficiente per smontare montare mobili per esempio ikea e per fare tantissimi lavoretti di bricolaggio e fai date e non solo quindi eventualmente state attenti a dosare la forza perché potrebbe essere addirittura troppo questa invece carica batteria per auto e moto e serve per ricaricare le batterie appunto dell'automobile della moto eccetera e anche questo ha subito un aumento da 14 euro e 99 a 19 euro e 99 funziona anche come mantenitore di carica funziona con tutti i tipi di batteria quindi a gm batterie a piombo eccetera eccetera tranne quelle a litio quindi fate attenzione se avete batterie a litio non utilizzate la e può essere utilizzata anche con diversi programmi ma l'ho recensito eventualmente vi lascio il link di tutto quello di cui vi ho parlato le origenze di tutti per poter vedere insomma quello che ne penso alle varie prove durante le video recensioni questo invece è un termometro digitale per auto che io però qua all'interno del mio laboratorio che mi indica la temperatura a una sondina che va messa all'esterno dell'automobile se vogliamo utilizzarla nella macchina e ci permette di vedere quindi la temperatura che abbiamo all'esterno e la temperatura anche all'interno sul display è riportato in e out poi abbiamo anche l'orario sulla destra ma si può utilizzare anche in casa mettendo per esempio la sondina fuori dalla finestra per sapere la temperatura interna nel nostro appartamento e la temperatura all'esterno sulla destra invece troviamo tappetini e coprisedile costeranno 6 euro e 99 in tre colorazioni quindi blu rosso e grigio la stessa cosa per quanto riguarda i tappetini saranno con il bordino grigio rosso e blu a 11 euro e 99 poi pantaloni da lavoro per uomo 11 euro e 99 con misura tra 48 e 58 e poi questi che mi piacciono tantissimo sono delle borracce addirittura una è adatta anche per bibite cassate questa pure il bicchierino nella parte alta avranno il logo parkside inciso al costo di 7 euro e 99 e queste verranno con me al poligono poi troviamo pure un telo copri auto con tre misure differenti quindi ml e xl e poi una misura un po più grande adatta per i sub sulla destra troviamo pure uno spray perforatura di pneumatici chiamato anche gonfia ripara su questo sono pareri discordanti sull'utilizzo perché lascia comunque dei residui all'interno ma nel caso in cui non abbiamo ruote scorta foriamo non abbiamo alternative è una buona soluzione per poter tornare a casa poi andiamo ancora avanti e troviamo qualcosa che riguarda le moto quindi delle protezioni termiche questa è una maglia intima la motociclista per uomo 14 euro e 99 hanno un tipo di tessuto particolare che permette di mantenere la temperatura corporea un pochettino più stabile durante il viaggio e quindi di non sentire il freddo perché in moto ragazzi io ho fatto anche lunghi viaggi se non ci si protegge bene effettivamente si soffre questo è un passamontagna o sotto casco che funziona praticamente sia per fare le rapine che per proteggersi dal freddo e ha fatto attenzione perché vietato entrare all'interno di attività commerciali tipo tabaccheria eccetera con il volto coperto quindi casco passamontagna eccetera e questi invece sono dei guanti da motociclista costo di 22 euro e 99 leggiamo anche la descrizione della scalia perché effettivamente riportano dei dati interessanti quindi con cuoio anti vento e impermeabili grazie alla membrana interna poi hanno una misura che va da 8 a 11 quindi si possono adattare praticamente a quasi tutte le mani e poi qua c'è quest'altra della scalia che informa che ci sono degli elementi riflettenti quindi ottimo perché colpiti dai fari delle automobili eccetera si rendono più visibili al motociclista il palmo della mano è rinforzato lo stesso anche per le nocche quando c'è scritto ma ci sono le nocche rinforzate quindi protette e poi c'è pure il tergivisiera che io non so effettivamente cosa sia penso che sia un tessuto che sarà all'interno non lo so però serve per furire a questo punto la visiera del casco questi sono calzamaglia da motociclista per uomo stesso argomento della maglia quindi mantengono il calore del corpo poi un telo coprimoto pure per questo ci saranno diverse misure per moto più o meno grandi scooter eccetera e con una sorta di finestra nella parte posteriore per vedere anche la targa è un tessuto ad asciugatura rapida idone repellente e resistente a raggi uv poi vediamo pure qualche altra cosa che non è parkside però può essere interessante e allora da questa parte c'è per esempio una lampada led con l'engrandimento che è ottima anche per fare lavori di precisione sia per elettronica che lavori di modellismo eccetera che si piega su per giù come le lampade da scrivania che si possono orientare a piacimento e avendo l'illuminazione possiamo sfruttarla per illuminare la zona nella quale stiamo lavorando oppure nel caso in cui in cui si faccia modellismo si lavori con elettronica insomma componenti piccoli con la lente e ingrandimento riusciamo a vedere bene quello che stiamo facendo in caso di saldatura di stagno insomma secondo me può tornare molto utile e costerà però 34 euro e 99 questa invece una stazione di ricarica usb scontata di 5 euro permette di ricaricare fino a quattro dispositivi contemporaneamente con tre uscite usb tipo a e una di tipo c nella pagina delle offerte troviamo anche le batterie batteria bottone confezione da sei pezzi al costo di un euro non hanno effettivamente una grandissima durata però si possono comprare anche di scorta utilizzare per il calibro digitale oppure per il goniometro qua troviamo anche il nastro adesivo oppure biedisivo della trem e poi qua in basso delle torce led a 2 euro saranno delle piccole torce tipo portachiavi non so comunque 2 euro una piccola torcia anche da mettere nel portabagagli potrebbe fare comodo e il video finisce qua ragazzi quindi spero che vi sia piaciuto spero che vi sia stato utile per conoscere i prodotti appunto che troveremo la prossima settimana invito ad iscrivervi al mio canale mettere mi piace e qua giù cliccando sul pollicione di giù cliccate sulla campanella per attivare le notifiche dopo esservi iscritti ci vediamo tutti nei prossimi caricamenti ciao da riccardo ea presto